Stefano Fiore buongiorno, bentrovato qui su cosenzachannel.it Partiamo da lontano, la tua è stata una carriera da top player In Serie A hai disputato 321 partite e 48 reti Nelle Coppe Europee 62 presenze e 9 reti In Nazionale 38 presenze e 2 reti Abbiamo tanti altri dati, però ci fermiamo qui Quanto pesa restare lontano dal terreno di gioco? In questo momento non molto Ma sono convinto che fra qualche tempo Non so bene quanto Credo che mi mancherà Perché poi quando l'hai fatto per una vita Hai speso tutto quello che è stato il mio passato Per il gioco del calcio È inevitabile che determinate cose ti mancano Soprattutto lo spogliatoio che ritengo poi sia il cuore Il cuore di questo sport Perché il contatto con i compagni Con lo staff e tutto È quello che poi È l'aspetto più bello, più vero È deciso di lasciare il calcio Perché hai perso stimoli O per quale motivo Sì Gli ultimi due anni Volevano essere qualcosa Che mi permettesse di chiudere la carriera Con un epilogo da libro cuore Nel senso tornare a casa laddove ho cominciato E cercare di portare un po' più in alto La squadra della mia città Che veniva da anni di sofferenza Purtroppo per tanti motivi non è stato così E soprattutto il secondo anno È stato veramente drammatico Per quello che riguarda la mia posizione In quanto non solo non sono riuscito A compiere quello che avrei voluto fare Ma la strada è stata complicata E devastata da tanti episodi Per uno che è abituato a un certo tipo di calcio E soprattutto al professionismo E agli aspetti più puri di questo gioco Che è il gioco più bello del mondo Ma che va fatto in un determinato modo Hanno fatto sì che Ecco mi sono disinnamorato di questo mondo E il fatto che ciò sia avvenuto Proprio a Cosenza Mi ha rattristato in maniera particolare Non sono mai stato uno che ha voluto vivacchiare Quindi giocare senza voglia, senza stimoli Confrontarmi con un ambiente che non ha saputo meritare La mia professionalità Mi ha fatto propendere in questo momento Per questa decisione Che credo sarà definitiva Ma che sicuramente in questo momento è molto fermo È molto fermo Qui avanti affronteremo proprio questo aspetto Hai vissuto a Valencia Hai vissuto a Roma, a Dudine In grandi città Sei ritornato però a casa tua Perché? Perché a un certo punto mi sono reso conto Che in un certo tipo di calcio Non c'era più posto per me E sinceramente non ho capito neanche le motivazioni Però al di là di questo Quando ti rendi conto di determinate cose Allora dai valore ad altri aspetti E io avrei potuto andare in paesi esteri a giocare Probabilmente anche guadagnare un mucchio di quattrini Però non era quello di cui avevo bisogno Sentivo il bisogno di una nuova scommessa Visto che ne ho fatte tante nel corso della mia carriera E forse la più bella appunto era quella Di riportare il Cosenza Quanto meno in una posizione più decorosa E questo mi allettava molto E mi ha dato quegli stimoli famosi Che ti dicevo prima Le componenti quando feci questa scelta Sembravano esserci Poi man mano il cammino è stato sempre più impervio Con numerosi ostacoli Però non rinnego assolutamente la scelta Perché quando l'ho fatta ero consapevole anche di questi rischi E credo tu l'abbia fatto anche per restare vicino alla tua famiglia Siete una famiglia molto unita In questo periodo il morto Simoncelli Si parla proprio di famiglie unite Quella di Simoncelli era unitissima È unitissima La vostra anche tanto Fiore ha deciso dopo aver girovagato di tornare a casa Dal papà, dalla mamma, dal fratello Sì, anche perché sono andato via molto presto E anche in maniera inaspettata Quindi avevo lasciato qualcosa di incompiuto Perché io giocavo per i colori della mia città La squadra della mia città Quindi avevo il massimo a 18 anni dalla vita Soprattutto da questo punto di vista Perché rappresentare Crescere, rappresentare la propria città Vestire la maglia della propria città Davanti a tutti gli affetti, agli amici Era qualcosa di molto bello E che avrei voluto continuare a fare Purtroppo il calcio a volte va molto in fretta Ti cambia le carte in tavola in maniera repentina E così mi ritrovai a 18 anni a dover partire e lasciare casa Quindi nella mia testa c'è sempre stato il fatto di ritornare Forse l'ho fatto in un momento in cui non me l'aspettavo Però come ti ho detto prima Avevo chiuso probabilmente con un certo tipo di calcio E ho fatto questa scelta con il cuore Ma anche con tanta voglia Peccato poi l'epilogo non sia stato dei migliori Hai parlato dei tuoi 18 anni Era la stagione 92-93 Il Cosenza diventava campione d'Italia Berretti Feci due gol Riuscisti a fare due gol alla primavera della Roma C'era Francesco Totti con la Roma In quel famoso campionato dove lo ricordiamo Il Cosenza diventò proprio campione d'Italia Tra il Fiore che fece la doppietta in quella partita Ed il Fiore invece responsabile dell'area tecnica rosso-blu Cosa è cambiato e quale invece il filo conduttore? È cambiato penso tanto Perché comunque lì ero un ragazzino Che sognava di diventare un giocatore Ma che mai avrebbe immaginato di poter fare la carriera che poi ho fatto E oggi quel percorso mi ha permesso di essere la persona che sono adesso Mi ha insegnato tante cose Perché il calcio oltre ad essere un bellissimo gioco È una palestra di vita immensa Anche perché ti dà la possibilità di confrontarti giornalmente con tante persone Imparare da tante persone Confrontarti con altre mentalità Ed per me è stata una palestra Quindi oggi sono una persona diversa da allora Però il filo conduttore per riallacciarmi alla tua domanda È quella che I valori e l'entusiasmo sono rimasti quello Perché è vero non gioco più Però in un'altra figura Cerco di mantenere le stesse caratteristiche Che mi hanno permesso di fare molta strada nel calcio Speriamo con le stesse componenti Di poterlo fare sempre nel calcio Ma con un altro vestito La tua carriera in Serie A ti ha visto vestire le maglie di squadre Che al momento sono i vertici della classifica Udinese e Lazio Solo per citarne alcune Partiamo dalla squadra friulana Lì i Pozzo, proprietari del club Hanno esportato secondo te il modello Arsenal? Sì, vanno molto vicini a quel modello Forse anche superandolo dico io Perché l'Arsenal lo fa da qualche anno I Pozzo probabilmente lo fanno ancora da prima È una società modello da questo punto di vista È una società che ha un'organizzazione Che gli permette di stare alla pari Con i grandi club Attraverso un lavoro straordinario Perché non ha potenzialità e non ha voglia Di spendere economicamente le cifre Che invece spendono i grandi club Ha delle risorse interne Che gli permettono di sopperire a questo Punta su gente sconosciuta Che gioca in campionati magari indicibili e indecifrabili Però poi alla fine ottiene non solo risultati Ma vende questi giocatori alle grandi Compiendo degli utili Realizzando degli utili eccezionali Già ai tempi in cui andai io Mi resi conto che era una società di un certo tipo Con una serietà sul lavoro incredibile E alla fine salvo qualche rara eccezione di stagioni Insomma che possono capitare storte Compie sempre campionati di rilievo E secondo me è la società migliore Che opera nella maniera migliore in Italia Pozzo ultimamente ha detto che Il fiore all'occhiello dell'Udinese sono gli osservatori Perché loro danno credito ai loro osservatori A differenza di altre società Sì, oggi ritengo che siano L'osservatore è una figura determinante In una squadra di calcio E soprattutto in una squadra che non ha Un Moratti, un Berlusconi alle spalle Bisogna programmare E avere la capacità di andare A scoprire talenti in tutto il mondo Quindi sono d'accordo con lui Che la risorsa principale in questo momento Per l'Udinese sono gli osservatori Chiaramente coordinati da loro Perché dopo tanti anni di calcio Anche loro hanno un'esperienza tale Da poter giudicare, visionare Qualsiasi giocatore Stefano, ci dai un giudizio su Guidolin Sul suo 3-5-2 Che sta consentendo proprio i bianconeri Di restare su standard elevati Seppur costretti comunque dal mercato A vendere i pezzi pregiati Ma io di lui ne posso parlare Solo che bene Io non ho avuto la fortuna di essere allenato Da Guidolin Ma l'ho sfiorato In quanto arrivai a Udine Perché mi volle lui dal Parma Assolutamente Però immediatamente dopo Fu esonerato Quindi non riuscì neanche A fare un allenamento con lui Però Quello che poi ha fatto Nell'arco della sua carriera Parla da sé Ha ottenuto risultati Secondo me incredibili Con squadre Modeste O comunque non eccezionali E credo che sia un limite Del nostro calcio Non aver Non aver considerato Guidolin Alla stregua Di tanti altri allenatori Che Per nome Per passato Hanno avuto possibilità Che lui In realtà In carriera Non ha mai avuto Però Queste sono le stranezze Del nostro calcio Adesso Sembra essere alla ribalta Però Allena l'Udinese Insomma Un allenatore Che ottiene risultati Così importanti Con squadre Non particolarmente forti Farebbe pensare Che Le potenzialità Per allenare una grande Ci sono Però Il calcio a volte è ingiusto Ed è bello Forse anche per questo Per quanto riguarda La Lazio Invece Tu sei molto legato Alla Lazio Il tuo addio Nel 2004 Fu un vero e proprio Sacrificio Voluto per cercare Di far cassa In un momento Catastrofico Per la società Laziale Hai sfiorato L'era lotito Che idea Invece Del presidente Biancazzurro E come giudichi Reia Del campionato Che sta affrontando La Lazio Ma lotito È un innovatore Mi è capitato Anche lui Di sfiorarlo In quanto Andai via Pochi giorni prima Del suo Ingresso La Lazio La Lazio Dopo il crack Cragnotti Però ha avuto modo Di parlarci Più di una volta Ed è un personaggio Molto molto particolare Che col calcio C'entra poco o niente Però ha portato Una ventata Di imprevedibilità In quanto Proprio perché Neofita del calcio Ha cercato Nel tempo Di cambiare alcune cose E per quanto Fosse il suo progetto I suoi pensieri Bisogna dargli merito Che nel tempo Ha avuto ragione Ha risanato Una società Che era Sull'orlo Del fallimento Magari anche Con qualche Aiuto necessario Da parte Dello Stato Probabilmente Però la sua Politica Alla lunga Ha pagato E oggi È tra le società Che opera meglio E lo fa Con Grande Oculatezza Quest'anno Probabilmente Ha operato Ancora meglio Degli altri anni E non a caso In questo momento Si trova Lì Nei primi posti Quindi Per me Bisogna Sicuramente Apprezzarlo Ringraziarlo Per quello Che ha fatto E seguirlo Perché ripeto Il calcio Sta cambiando Anche Non solo Sul terreno di gioco Ma anche fuori La crisi Ha investito Anche il nostro settore Quindi è importante Che ci siano Persone come lui Che cerchino Di cambiare Il modello calcio Che in Europa È già cambiato E probabilmente Non a caso In questo momento Visto L'andamento Anche della nostra Nazionale Negli ultimi tempi Non siamo Così superiori Agli altri paesi Quindi bisogna Guardare anche Alla Germania Soprattutto All'Inghilterra Dove ci sono Modelli di calcio Totalmente diversi E che probabilmente In questo momento Ci sono anche superiori Secondo te Visto Quanto è accaduto In questo inizio Di campionato In Serie A Sia Lazio Che Udinese Che campionato Possono fare Dove possono arrivare Ma queste prime giornate Dicono che Potrebbe essere Un campionato Più equilibrato Quindi più bello E speriamo Che questa fotografia Iniziale Possa esserlo Anche alla fine Perché Insomma Per il bene Del calcio Il fatto che ci sia Equilibrio È qualcosa Di nuovo Ed è qualcosa Di bello Pensare che Il Napoli L'Udinese O la Lazio Possano Provare O tentare Di vincere Il campionato Qualche anno fa Era impensabile Ritengo Che Il Milan Soprattutto Ma l'Inter Che in ritardo Potrebbe rientrare Sono Sicuramente Le squadre Meglio attrezzate Però Ci sono realtà Che stanno crescendo E crescendo bene Io mi auguro Che Che possano dire La loro Fino in fondo Anzi Mi auguro Che quest'anno Il campionato Possa essere vinto Da un outsider Perché Sarebbe bello Insomma Che ci fosse Una squadra Nuova Tipo il Verona Di qualche anno fa O la Sampdoria Degli anni 90 Perché insomma Siamo un po' Tutti stufi Di veder vincere Sempre L'Inter La Juve Il Milan Speriamo Speriamo Per il nostro calcio Veniamo invece All'attualità Di casa nostra Possiamo dire Che la tua nomina È stata voluta Per acclamazione Popolare Visto quello che hai dato Al cosenza Da giocatore Anche a livello umano Viste le vicende Dal 2007 Ad oggi Ma questo Non lo so Così si dice Io Spero Di rappresentare Al meglio La nostra Cosentinità Così come l'ho fatto Da giocatore Mi auguro Di poterlo fare Da direttore Da dirigente Quello che sarà Perché è anche vero Che ad oggi Il mio futuro Non è stato scelto Ecco È una strada Che ho intrapreso Ma che non so Dove mi porterà E se avrò voglia Di perseguire Quello di cui sono contento È che La gente Ha capito Un po' di più Stefano Fiore Da quando sono tornato Perché Il fatto di essere Andato via molto presto Il fatto di essere Stato sempre lontano E comunque Il personaggio È una persona Un po' schiva Molto riservata Magari il mio carattere Non è A molti Non è arrivato Nella maniera giusta Quindi Sono contento di questo E il riconoscimento Della mia gente È la cosa È la cosa più bella Di questo Di questo periodo Quello che posso dire È che Questa nuova avventura L'ho L'ho accettata Con entusiasmo Soprattutto Con voglia di fare Perché secondo me C'è tanto C'è tantissimo Da fare Però lo facciamo Io e le persone Che mi sono Che mi sono A fianco Lo facciamo Nella maniera Nella maniera Giusta Facendo le cose Per bene E provando Provando A lavorare In un determinato modo Cosa che Negli ultimi anni Non è riuscita Molto bene Qui C'è stato un passaggio Dove hai detto Che è ancora qualcosa Di non definito Cosa serve Per definirlo Cioè Stefano Fiore Oggi È responsabile Dell'area tecnica Del Cosenza Lo sarà anche domani Dopodomani Non lo so Molto dipende Dalle persone Con le quali Mi confronto Ogni giorno E che mi confronterò In futuro Perché ripeto Io ho un'idea Ben precisa Di come Di come si deve operare Di come Probabilmente È giusto operare Soprattutto In una realtà Difficile Come Come Cosenza In questo momento Oggi Siamo Purtroppo L'ultima provincia Calabrese Per quello Che riguarda Il calcio Naturalmente E questo Non ce lo possiamo Permettere E deve essere Motivo di sprone A tutti coloro I quali Lavorano Per questo Per questo Progetto Riportare Il Cosenza In una Posizione Più Più Consona Per fare Questo Bisogna Bisogna Lavorare C'è bisogno Di tempo Non bisogna Illudere la gente Pensando che Perché ci chiamiamo Cosenza O perché abbiamo Grandi potenzialità Il lavoro Diventa più facile O tutto Diventa più scontato Anzi Se è possibile È anche più difficile Perché Nello specifico Per esempio Per quello che riguarda Il campo Il Cosenza È la squadra Da battere Quindi Ci sono notevoli Difficoltà Abbiamo il vantaggio Di ripartire da zero Con persone nuove Che vogliono Cambiare le cose Da tanti punti di vista Quindi Il mio futuro Dipende anche Da questo Se Mi rendo conto Che ci sono persone Che sposano Una certa linea È chiaro che La mia presenza Avrà modo Di continuare Ad esserci E ad impegnarsi Viceversa Vedremo Cosa Succederà Durante la conferenza Stampa di presentazione Delle nuove maglie È sottolineato Che il punto di partenza Di questa nuova avventura È comportarsi In maniera Differente Rispetto a chi Ha gestito In passato Il calcio A Cosenza Sembra che ci stiate Riuscendo E questo Dà fastidio A qualcuno Perché secondo te È perché Purtroppo C'è gente Io ritengo Invidiosa C'è gente Che vive E cresce Sulle disgrazie Altrui Che non vuole bene Al Cosenza Negli ultimi anni Si sono vinti i campionati Si sono Fatti dei progetti Ambiziosi Che però poi Se non supportati Da Da una certa professionalità Da certi valori Alla fine Non solo Diventano perdenti Ma ti si rivoltano contro Due fallimenti In pochissimi anni Insomma Parlano Parlano da sé E Per cambiare queste cose Non è quindi Importante Vincere un campionato O Riportare il Cosenza In categorie Professionistiche Ma bensì Farlo con un progetto Con un'idea Che deve essere Fondata Su certezze future Però questo Probabilmente A qualcuno Non piace Bisogna sempre Vivere nel torbido Muoversi Alle spalle Di chi lavora In maniera seria E corretta Per chi ha voglia Di cambiare le cose Non lo so Non so cosa Sinceramente Spinga Queste persone A ostacolare O comunque A A parlare male Di qualcuno Purtroppo Esistono Queste persone Però speriamo Non sia lo specchio Ecco Della nostra cosentinità Speriamo che la gente Capisca che Che quantomeno Ci sono delle persone Che vogliono Il bene del cosenso E che provano A farlo Poi nessuno È infallibile Tutti noi Per fortuna Commettiamo Degli errori Però Se sbagliamo E quando sbagliamo Sbagliamo In buona fede Senza Senza giochini strani Senza Voler fare i furbi Noi abbiamo scelto Professionalità Che Che lavorano In un determinato modo E che soprattutto Per la situazione Attuale Del cosenza Sono delle risorse Incredibili E bisognerebbe Che tutti Lo apprezzassero Di più Mentre Come ho detto prima C'è qualcuno Che denigra Queste cose E che cavalca Altre Altre situazioni Speriamo Rimangano Dei casi Isolati Che 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 non Vadano a Scalfire Le persone Di buon senso Che comunque Ci sono E che possono Far bene Al cosenza Di sicuro Tu e il tuo staff Siete tranquilli Ah guarda Assolutamente Assolutamente Sì Assolutamente Sì Perché Ripeto Abbiamo la forza Per quello Che riguarda A me Del mio passato Cioè Io non Non devo Dire grazie A nessuno Sono sempre Stato una persona A modo Trasparente Sincera Con pregi e difetti Però Abituato Anche A determinate Situazioni Quindi a me Certe cose Mi fanno Mi fanno Sorridere In ogni caso Il confronto Non solo Dialettico Ma anche Umano Sarebbe opportuno Il problema Che spesso Queste persone Lo evitano Sfuggono A queste cose Perché probabilmente Sono perdenti In partenza Quindi Ho la serenità Di non avere Di non avere Padroni Di essere Convinto Di quello Che faccio Ripeto Commettendo anche Qualche errore Per fortuna Perché nessuno È perfetto Però Sbagliando In buona fede Sempre Stefano Credi che a Cosenza Si potrà mai Trovare Unità di intenti Sinceramente Ti rispondo Che in questo momento È difficile È difficile Perché poi La fotografia Attuale Dice che Dice che siamo In serie D Che ci sono Delle persone Nuove Che Provano Hanno messo Dei soldi Per Per far ripartire Un nuovo progetto A Cosenza Che queste persone Si sono Affiancate A uno staff Dirigenziale Tecnico Di indubbio valore E anche questo Non è necessario Per portare Una serenità Nella quale Poter lavorare E crescere In tranquillità Quindi Ritengo che in questo momento Non possa essere Così È auspicabile Perché Tutte le componenti Possono contribuire Alla crescita Di un progetto E se non si va Tutti in un'unica direzione Probabilmente La cosa diventa Più complicata Però Bisogna essere Tranquilli Forti Fregarsene Scusate Il termine Di alcune cose E Continuare a lavorare Ripeto Nel miglior modo possibile Per il bene Del Cosenza Qual è il progetto Di Stefano Fiore E che tempi Con il tuo staff Vi siete dati Per questo progetto Ma il progetto È sicuramente A lunga A lunga scadenza Non può essere Altrimenti Per riprendere Un po' Il discorso di prima L'Udinese insegna Nel senso che Quando non si hanno Potenzialità economiche Non si ha Dietro Un magnate Con Milioni di euro Da mettere a disposizione Devi ripartire Dal basso Dal basso E nel calcio Dal settore giovanile Il Cosenza per molti anni Non ha avuto Settore giovanile E poco Ha preso Dalla propria terra Per creare Giocatori Che poi arrivassero In prima squadra Quindi Il nostro progetto È sicuramente Di 4-5 anni Nel senso che Bisogna ripartire Da qualcosa Che in questo momento È deficitario Mettere Degli istruttori Che In questi anni Riescano A tirar fuori A far crescere I giocatori Che abbiamo Nella nostra terra Senza dover Attingere A primavera O settore giovanili Di altre Di altre squadre In Italia E solo così Secondo me Possiamo avere Un certo tipo Di futuro Poi È chiaro Lavorare Con i giovani È bello Ma è anche Rischioso Perché Non è detto Che lavorando Con i giovani Tu riesca Poi A ottenere Chissà quali Risultati Però È indispensabile Per ridare Un certo tipo Anche di Immagine Ripartire Dal settore giovanile Quindi Siamo attenti Alla prima squadra Perché in questo momento Abbiamo un campionato A disputare E attraverso quello Possiamo Pian piano Risalire alla china Però È indispensabile Che nel tempo Il cosenza calcio Attinga Dal proprio settore giovanile Le risorse Necessarie Per poter costruire Qualcosa di Non dico di importante Ma quanto meno Di giusto Per la nostra città E per tutto L'ambiente cosentino Come lo è stato Per fiore Per i vari fiore Paschetta Morrone Florio E via discorrendo Sì Non a caso Allora Il settore giovanile Era Più curato Di quanto poi Lo è stato In futuro Nel futuro Nel futuro immediato Anche se Poi Quasi tutti Quei giocatori Che siamo venuti fuori Da quegli anni Poco abbiamo dato Al cosenza In quanto Nel momento in cui C'era da realizzare Qualcosa Da un punto di vista Economico Insomma Non ci si pensava Molto su Invece Secondo me Bisogna un po' Invertire questa cosa Perché I giocatori Che ha in casa È giusto Che crescano Nella Nella squadra Di appartenenze E' chiaro che poi Nessuno vuol Precludere Un futuro Rosio A talenti Che magari Ci auguriamo Di avere Perché nel momento In cui uno diventa Troppo bravo E ce l'auguriamo Siano in tanti Per il cosenza Noi saremmo Orgogliosi Di potergli aprire Le porte Di palcoscenici Più importanti Però Il mio auspicio È quello che Il cosenza Possa avere Ecco Dei talenti Che Che nascono E crescono Nel settore giovanile Enzo Patania È parte integrante Del progetto Di cui hai parlato Poco fa A differenza Di quanto avviene Puntualmente Nel calcio Dove A pagare Sempre L'allenatore Cosenza Può diventare L'eccezione Che conferma La regola Con un tecnico Che possa Anche legare Il suo nome Proprio Su questo allenatore Su questo progetto Che abbiamo Pensato Tutti insieme Il mister È una risorsa Importantissima Che A un certo punto Stava Per diventare Un allenatore Molto importante Non dimentichiamolo Poi anche Anche lui Come spesso Succede Nel calcio Ha avuto Delle esperienze Che magari Lo hanno un po' Fermato Nella sua crescita Però È una persona Che ha mantenuto Sempre Un livello Molto alto Di professionalità E di serietà Nel suo lavoro E non è stato Scelto a caso Quindi pensare A una sostituzione Insomma Vorrebbe dire Mettere in discussione Tutto quello Che è il progetto Iniziale Le difficoltà Esistono Ma I problemi Vanno affrontati E risolti Non si può Pensare Di crescere Di diventare Una società Di un certo tipo Se mettiamo In discussione Una professionalità Come Patania O Chi per lui Dopo un pareggio Dopo una sconfitta Vorrebbe dire Tornare Di nuovo Ai soliti discorsi La gente Deve capire Che Ci vuole Del tempo Tutti noi Vogliamo vincere Riportare il Cosenza Laddove merita Però Non vuol dire Che bisogna farlo Al primo anno O che non si Possa sbagliare Però Se si sbaglia E si ha La consapevolezza Che si sta lavorando In un determinato modo E si capisce Che si può sbagliare Tutti noi Cresciamo Ecco Probabilmente Da questo punto di vista Il Cosenzino Deve Deve un po' Cambiare Quello che sono Le sue Suo modo di pensare Si vuole Sempre tutto subito E questo nel calcio Non è possibile Soprattutto Nella nostra realtà Che in questo momento È una realtà Di serie D E che deve E che è una creatura Che Che ancora deve nascere Che Ha A tempo E bisogno di crescere Nelle ultime dieci stagioni È un dato Statistico Che Cosenza Channel Ha pubblicato Proprio In questi ultimi giorni Nelle ultime dieci stagioni Ci sono stati 28 Allenatori Questa dimostrazione Credo Che Le precedenti Società Chi ha guidato La società Lo ha fatto Con troppa sufficienza Sì È un segnale È un segnale Che dice Che spesso Ci lasciamo condizionare Da Da un risultato Invece Bisogna avere La forza E la capacità Di andare oltre Perché il risultato È lo specchio finale Di una partita Però Nei 90 minuti Succede C'è la storia Della partita In dieci partite Ce n'è un'altra Di storia Quindi Bisogna Imparare A leggere Il calcio E non lasciarsi Trascinare Solo Da un fatto emotivo O umorale A seconda Di come va Una partita Piuttosto di Quello che dice Una piazza O la gente Per strada Bisogna avere La consapevolezza Ripeto Del progetto E Per seguirlo Nella maniera Più netta E giusta Senza lasciarsi Condizionare Da quello che succede All'esterno Perché È normale Che Un risultato Positivo Possa esaltare E uno negativo Far pensare Delle cose diverse Secondo te Perché Fino ad oggi Stefano La società Non è mai uscita Allo scoperto Sottolineando Quelle che sono Le linee guida Da te appena tracciate Perché È una società nuova Una società nuova Che sta capendo Pian piano Cos'è Cos'è Il veicolo calcio È una società Composta da nove soci E già questo È Se da una parte È una risorsa Perché Vuol dire che Più gente Crede nel progetto Dall'altra Può essere un limite Perché Più gente Deve capire Determinate cose E più tempo Ci vuole Non è un mistero Che Della nuova società Tutti si occupano Di altro E hanno avuto A che fare Col calcio Poco o niente Quindi è normale Che ci sia Anche per loro Un periodo Di Di Adattamento E Di tempo Necessario Per capire Le logiche del calcio Che Sono completamente Diverse Da qualsiasi Ambito Imprenditoriale Quindi bisogna dare A questa società Il tempo Necessario Per far Proprie Determinate cose E in questo senso La mia presenza Spero sia Sempre più coinvolta In modo tale Da accelerare Questo processo Di crescita Siamo quasi in chiusura Perché Secondo te Tutti I giovani talenti Della provincia Di Cosenza Tendono a trovare Glorie altrove Ma perché Probabilmente Non Non vengono Non vengono Seguiti E consigliati Nella maniera Nella maniera Giusta Spesso il problema Io ritengo Sia nella famiglia In quanto Spesso e volentieri Si esercita Una pressione Forte E sbagliata Sui propri figli E si ha una visione Diversa Da quello che poi È la realtà Spesso Se un figlio Non gioca Non si ha Ecco La calma Di capire Del perché Si va subito Alla ricerca Di qualche altra Soluzione Che lo Può mettere Nelle condizioni Di giocare E questo Da una parte Diventa Facile Ma dall'altra Non si capisce Che magari Gli si fa un danno Soprattutto se Si trova In un contesto Laddove Può crescere E capire Determinate cose Quindi Tutto Parte dalla famiglia Poi è chiaro Ci sono Ci sono realtà Dove è difficile Anche crescere Perché mancano Magari Strutture Professionalità Competenze Ma io ritengo Che a Cosenza Qualcosa di buono C'è L'importante Ripeto È cambiare Un po' Questa mentalità Che vede Che vede Tutti Possibili Giocatori Giocare A calcio È difficile È difficile Arriva Uno Su mille Come diceva Una canzone Quindi Bisogna avere La capacità Di capire Che Che innanzitutto Una determinata Età Il calcio Va vissuto Come un divertimento Non come Una professione E nel momento In cui poi Arriva L'effettiva Maturazione Del giocatore Che si capisce Se può O non può Fare Strada Quindi Il mio È un appello Alle famiglie Perché È proprio Lì Che si Comincia A formare Il ragazzo E quindi Bisogna Bisogna Capire Che La strada Bisogna Che la faccia In maniera Autonoma E non Fare Fare Delle forzature Che poi Possono diventare Controproducenti Ultima domanda I tifosi Parlano E tanto Di promozione È giusto Anche Che sia Che sia Così È impronunciabile Questa parola Promozione Non bisogna Illudere Nessuno Assolutamente Però Secondo Te No Non è Noi Io Per primo Non amo Partecipare Quindi sicuramente La voglia Di provare A vincere Ci deve essere Cosa diversa È dire E mettere In bocca Delle Parole Che Secondo me In questo momento Non hanno Ragione di esistere Cosenza Nasce Pochi mesi fa In ritardo Soprattutto E con tante cose Da fare Quindi Bisogna Rendersi conto Di questo Far proprio Questa 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 situazione La gente Deve Deve Credere Nella promozione Deve sperare Nella promozione Deve stare vicino Alla squadra Per sostenerla Però Deve essere Anche cosciente Che è una cosa Difficile E che non si ottiene Solo Volendola Ma Devono esserci Tante componenti Per far sì Che questo avvenga Noi ci proviamo Noi ci proviamo Perché Ripeto Noi non vogliamo Partecipare E riteniamo Di essere Una squadra Una società Che pur Ripeto Con qualche Problemino iniziale Abbiamo la capacità Di Però Non illudiamo Nessuno Dicendo che Questa squadra È pronta Per Per la promozione Perché potrebbe essere Anche come dicevo Prima Controproducente Quindi andiamo Vogliamo bassi E facciamo le cose Che dobbiamo fare Nella maniera giusta Ma con la consapevolezza Che dobbiamo mirare A qualcosa di importante Io Stefano Ti ringrazio davvero Perché è stata Un'intervista Totalmente diversa Rispetto alle altre Anche i toni Molto pagati Del resto Come sei tu Spero lo sia stata Anche per te Sì È perché Mi piace Parlare Di altre cose Al di là Del calcio Perché di solito Le interviste Sono sempre Molto Banali E lo sono stato In passato Anch'io Perché in determinati In determinate interviste Bisogna essere Invece quando magari Si ha l'opportunità Di parlare Di qualcosa di diverso E soprattutto Nella città In cui vivo Mi fa molto piacere Grazie di nuovo Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te